Sono con il maestro Antonella Bertoni. Sono vicino a Piazza della Signoria, qui a Firenze, nella Galleria Arte e Arte di Armang Zomo, per la prima mostra nazionale della Resistenza. Abbiamo presentato il volume con Carlo Motta, responsabile dei libri illustrati dell'editoriale Giorgio Mondadori, e presto sarà nelle librerie e nelle fiere d'arte. Ho chiesto ad Antonella Bertoni di essere qui con noi, perché il suo linguaggio è un inno al colore recuperato attraverso le forme della geometria, il linguaggio rivoluzionario per eccellenza all'interno del contesto della storia dell'arte. E oggi, in un mondo dove tanti, anche in maniera non capace, si occupano di astrazione e di informale, le porta a un linguaggio ordinato, ma nello stesso tempo rivoluzionario. Grazie mille. Con le mie opere cerco di far emergere l'anima dalle forme geometriche attraverso il loro movimento e il loro colore. Ringrazio la galleria che ci ospita, ringrazio il professor Puntelli. Grazie per l'invito. Grazie. 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 Grazie.